Si deve annotare che il Comune di Oristano viaggia con i fianchi scoperti e questo nel momento in cui affronta il confronto e il dibattito sul documento unico di programmazione, il DUP, acronimo, AIPU, oscuro e indecifrabile. Ci sono in città cantieri avviate e cantieri sospesi, opere avviate, opere incompiute e opere bloccate in attesa di giudizio, una viabilità urbana fatta con mezzi di trasporto in alcune zone inadatti, persiste l'agonia dei due mercati civici di Via Costa e Via Cima, diffuse le preoccupazioni degli operatori che hanno installato i Deor per i ritardi nel definire un regolamento per la loro gestione, tira solo la spazzatura e la sua raccolta con Oristano che almeno in questo ottiene il plauso nazionale. Nella gestione complessiva del Comune si avverte l'esigenza di una svolta profonda attraverso la certezza della percorribilità dei percorsi che ora appaiano indefiniti e indefinibili per la poca convinzione con i quali vengono sostenuti. La Sardegna si trova ad affrontare grandi problematiche tra loro collegate. In primis la carenza di persone sanitarie e crisi del sistema sanitario regionale. Se ne parlerà nel corso dell'incontro dal titolo Ma che colpa abbiamo noi? Organizzato dal Comitato per il dito alla salute della provincia di Oristano che si terrà venerdì 1 dicembre alle ore 17.30 nei locali dell'Auditorium San Domenico via La Marmora 2. L'attuale situazione della sanità pubblica ha quasi raggiunto il punto di non ritorno a causa dei continui tentativi di smantellare il Servizio Sanitario Nazionale, tentativi che hanno causato la mancanza di medici e infermieri e liste d'attesa infinite per diverse prestazioni. Le statistiche dimostrano che un cittadino su cinque rinuncia alle cure. La regione non garantisce più un servizio sanitario realmente pubblico, universale e alla portata di ogni cittadino. Il secondo grande tema che verrà discusso è quello della transizione energetica. La Sardegna vanta una delle produzioni più significative a livello nazionale di energia derivante da fonte eolica, ma nonostante questo contributo energetico si osserva il crescente afflusso di richieste di nuove concessioni per impianti e parchi eolici. Un tempo prima della costruzione del porto e dell'insediarsi di attività industriali, la strada era poco più che una mulattiera di ramazione nella zona di San Giovanni per l'area paludosa del Cirrasa per poi inserirsi nella strada provinciale che porta l'idrovara del Sasso ad Arborea e via a scendere per poi congiungersi a Tanca Marchese e a Terralba con la statale 126. Difficoltà tecniche diverse impediscono di fatto la redazione del progetto per il suo rifacimento e messa in sicurezza considerando le sue condizioni fattiscenti per il traffico dei mezzi pesanti che vi si svolge collegato alle attività portuali e a quelle industriali presenti e per quello altrettanto intenso delle auto in transito. Le difficoltà riguardano i tempi di progettazione, si corre il rischio di perdere i finanziamenti annunciati se la partita non si chiude entro il 31 dicembre. Una storia che è una storia nel tempo a dimostrare che se per il consorzio industriale scrollarsi di dosso la strada per trasferirla alla provincia, per questo ente si sta rivelando un onere e una partita sempre più difficile da seguire. La scuola di Nuracchi compare nell'Atlante nazionale delle scuole da abitare, un database realizzato da Indire nell'ambito delle attività del progetto PROSA. Il progetto ha lo scopo di valorizzare l'esperienza di scuole che sono intervenute sull'edificio in seguito a un ripensamento del modello di scuola attraverso processi di progettazione partecipata o comunque a fronte di un progetto pedagogico condiviso con la comunità. Soddisfazione è stata espressa dalla giunta comunale. Con molto piacere i giorni scorsi abbiamo accolto nell'edificio scolastico di Nuracchi una delegazione dell'Indire in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione per una visita al fine di inserire la scuola e energie dirette nell'Atlante nazionale delle scuole da abitare. Inoltre è stato girato presso la nostra scuola un video per promuovere il plesso come scuola a modello nazionale. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e ciò ci motiva a proseguire con entusiasmo nell'obiettivo di consegnare ai nostri ragazzi e alle future generazioni una scuola di qualità. Dopo le sparate della settimana appena passata, l'inizio di questa che porta al mese natalizio registra a sinistra tentativi di aggiustamento e contatti sotto traccia per indurre Renato Sonu a desistere dal proposito in atto di scendere in campo e con liste proprie e con lui candidato premier a correre per le prossime elezioni regionali. Al momento tutto pare fermo ai blocchi di partenza, ma c'è chi indica nei progressisti e in Massimo Zedda la parte politica impegnata ad avviare quelle trattative. Zedda che intende ricandidarsi a sindaco di Cagliari e per questo deve avere i voti del centro-sinistra che costituiscono il pane e l'acqua del confronto. Nei prossimi giorni tutto è possibile come è possibile ogni sviluppo e lo stesso dicasi per il centro-destra sempre più appeso alle decisioni che assumeranno le direzioni nazionali dei partiti di questa coalizione. Al momento chiede la riconferma a Cristian Solinas. Avanza la proposta di candidatura il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo. Ne hanno in serbo Forza Italia i riformatori e il grande centro. La domanda è come finirà. Conclusa la ventunesima mostra del libro edito in Sardegna è tempo di bilanci. Abbiamo chiesto un parere ai rappresentanti dell'AES per quanto avvenuto in questi quattro giorni. Secondo i rappresentanti degli editori il bilancio della manifestazione presenta luci ed ombre. Positivo il fatto che si sia tornati nel padiglione Tamuli in posizione strategica. Positivo anche l'interesse mostrato dalle scuole che si dimostrano come sempre sensibili a questo settore. Non del tutto soddisfatti invece delle manifestazioni collaterali, non sempre pertinenti al tema del libro e della lettura, anche se la mostra ha subito molte trasformazioni. Non bisognerebbe tralasciare il proprio codice di comunicazione. Alla domanda sullo stato dell'editoria sarda ci viene detto che la situazione non è florida, ma del resto anche nel resto dell'Italia. L'editoria sarda non raggiunge l'1% di quella nazionale, anche se ci sono raggiunti più di 90.000 titoli. Per quanto riguarda l'avvento di internet e i social ci viene detto che non hanno influito più di tanto sulla lettura dei libri, anche se lo stato del settore non è troppo florido e si avrebbe bisogno dell'aiuto delle istituzioni. Decisamente soddisfatti gli organizzatori della mostra con in testa la neo-assessore alla cultura Fabiana Cugusi. L'organizzazione ha visto impegnati numerosi soggetti, a partire dall'assessore comunale della cultura, il centro dei servizi culturali che ha funzionato da coordinatore, la biblioteca comunale con un poll di tre associazioni giovanili, il teatro Costantino, Mart e le scuole. Con una comunicazione congiunta, questi ultimi per bocca della consigliera comunale Rita Azzurri ci sono dichiarati anch'essi moderatamente soddisfatti. In primis per il risultato conseguito presso le scuole, che erano il primo destinatario della manifestazione, che ha visto la partecipazione di quasi 2.000 ragazzi, a cui dicono abbiamo proposto anche del divertimento. Si è cosattato che dopo 21 edizioni si ha bisogno di un restyling. La mostra va aggiornata e così promettono di lavorarci da subito. Soddisfazione anche all'assessorato alla cultura, per il poco tempo che si è avuto per organizzare la mostra, ma che almeno nelle scuole ha avuto grande successo. Venerdì 1 dicembre alle ore 10, nella sala consigliare del Comune d'Oristano, il sindaco Massimiliano Sanna e l'assessore ai servizi sociali Carmen Murru incontreranno tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, operanti da almeno un anno nel territorio comunale d'Oristano. Al centro dell'incontro la presentazione e il confronto sul regolamento della consulta del terzo settore in vista della sua prossima istituzione. Vignas, la viticoltura nel codice rurale e nella carta di logo. È il titolo del convegno organizzato dall'Istar in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune d'Oristano e con l'assessorato alla pubblica istruzione e beni culturali della regione Sarda. In un programma venerdì 1 dicembre alle ore 18 nell'auditorio dell'ospitale Santi Antoni. Il convegno dell'Istituto Storico Arborenzi offrirà un contributo conoscitivo sulla coltivazione della vita e i tempi del giudicato e consentirà di approfondire la storia della vernace nella Sardegna medievale. Hanno portato in alto il nome della Sardegna nella scienza e nella medicina, nel giornalismo e nelle istituzioni, nel mondo accademico, in quello agricolo e in quelli artistici, dello spettacolo e dell'arte in generale, senza dimenticare lo sport. Ma sono anche e soprattutto instancabili lavoratrici e professionisti nei loro campi. Sono esempi di grande cuore e solidarietà, di forza d'anima e di volontà. Sono le donne di Sardegna che con diretti donne imprese a Sardegna ha voluto ringraziare per il loro contributo alla società con la consegna del premio Feminus 2023.